E' il sesto libro di questo enfant prodige della cultura pugliese che sta conquistando grande attenzione anche perché il tema è molto particolare. Sì, questo è un libro dell'amore proibito, è un libro sul desiderio, sugli amori impossibili, gli amori impossibili che si possono realizzare, che non si possono realizzare, che restano sempre impossibili, sempre lontani dal momento in cui si toccano le due persone che si amano ed è una storia che affonda le radici in un amore proibito perché nasce quando il protagonista maschile conosce la sua insegnante e lui è ancora in minorenne. In fondo tutti i ragazzi sono stati innamorati delle proprie insegnanti. Sì, anch'io sono stato innamorato di tutti i miei professori ed è un libro dove si racconta non soltanto questo ma si raccontano anche altre forme di amore proibito, forme di amicizia molto estrema fra i protagonisti maschili, una donna che aspetta il suo romo per tanti anni come la nonna Comasia del protagonista e poi l'amore proibito per i nostri luoghi, per la nostra terra che trattiene i protagonisti come se avesse una calamita. Lei riesce ad avere pubblico sia giovane, giovanissimo, ma anche molto adulto. Questo cosa significa? Probabilmente perché io ho biologicamente 36 anni ma mentalmente 13-14, me lo dicono anche le mie fidanzate, all'inizio come una cosa positiva poi diventa una cosa negativa. Questo è il sesto libro e sta andando benissimo, quello precedente tradotto in tutto il mondo, cosa dobbiamo attenderci ancora da Mario Desiati? Farò un libro che uscirà a maggio per ragazzi e sarà il racconto della nave Vlora visto da un ragazzino albenese e da un ragazzino italiano di 13 anni nel 1991. Io penso che la nave Vlora, l'arrivo nell'agosto del 1991 di quella enorme nave sulle nostre coste sia stato un po' il nostro muro di Berlino. Anche noi abbiamo avuto quella notte in cui sono arrivati i berlinesi dell'est nell'ovest e noi sono arrivati gli albanesi nella nostra terra.